Il momento d'incontro tra me e X Factor non potevano essere che le lettere, le lettere che compongono il nome appunto, perciò sette pannelli, una lettera per pannello che non a caso può essere le sette note musicali, perciò ogni lettera con il colore della nota musicale che la rappresenta, X Factor.